Io credo che in realtà sia una logica di buonsenso perché il conflitto permanente lo stanno creando le attuali politiche sull'accoglienza e sull'immigrazione. Io vedo altri paesi d'Europa che avevano un ingente afflusso di immigrati, penso alla Spagna, che in realtà stanno diventando un vero e proprio laboratorio tecnico e politico da cui l'Italia dovrebbe prendere spunto. Nel 2006 la Spagna nelle Canarie aveva gli sbarchi di quasi 30.000 immigrati, nel 2015 li ha ridotti a solamente 800 sbarchi alle Canarie. Perché questo? Perché hanno fatto in Spagna quello che noi diciamo da sempre ed abbiamo fatto quando c'era il ministro Maroni al governo, hanno preso accordi bilaterali con il Marocco, con la Mauritania, con il Mali. Con questi accordi bilaterali in Spagna stanno funzionando. E' quello che ha detto di voler fare anche Renzi adesso, è Ceccardi. Quello? Che ha detto di voler fare anche Renzi adesso. Sì, Renzi si sveglia tardi. Renzi si sveglia tardi e nel frattempo ha stanziato 4 miliardi nel 2016, abbiamo speso 3,3 miliardi nel 2015.